Ciao a tutti cagnacci, benvenuti in un nuovo video. Purtroppo un buon reporter deve rimanere sul pezzo finché è piccante, ma credo che alla fine di questa settimana tutto il delirio scoppiato qui su YouTube giungerà alla sua conclusione. Però approfitto appunto di uno stato della pagina Facebook di Paolo Ruffini dove risponde a Mostarda di Yotobi per fare questo vlog. Sarà un vlog aperto a Paolo Ruffini. Un vlog aperto che cosa sarebbe? Tipo una lettera aperta, quella che vedete sui giornali dove un cittadino, un intellettuale, un professionista chiede a qualcuno del mondo della politica, a qualcuno del mondo degli imprenditori o a chiunque altro, fa delle domande sperando che questi diano le risposte. Io voglio fare lo stesso con questo vlog, però Paolo, innanzitutto prima di farti queste tre domande sono molto arrabbiato con te perché quando fai un vlog contro Yotobi dovresti citare anche il suo auto che poi sarei io. E soprattutto, soprattutto caro Paolo, sono arrabbiato con te? Non è vero, non sono arrabbiato. Soprattutto però, caro Paolo, voglio dirti una cosa, prima di fare queste tre domande. Io sono uno di quelli che ha criticato il film, il film, la mia critica la puoi trovare qui. E ero uno di quelli che era andato in sala per cercare il meglio del tuo film. Uscito dalla sala, tanto meglio non l'ho trovato. Ho trovato poco, ho trovato una buona vera comica di Frank Matano e soprattutto una buona recitazione, secondo me, di quel ragazzo dei Pampers che non fa quello sulla sedia a rotelle, l'altro, quello che fa lo sfigato. Cioè ha un volto molto anni 70-80, sa di recitazione un po'. Beh, c'ha la faccia, secondo me. Ma oltre a questo non avevo trovato niente di che. Ecco, questo è quello che ho valutato quando sono uscito dal cinema. Invece, quando ora sono fresco, diciamo, cioè sono fresco, sono un po', ho passato un po' di tempo dalla visione, ho visto un po' i risultati che ho avuto il film e sono d'accordo con te, il film ha avuto successo, il film è stato molto visualizzato e questa è sicuramente una cosa positiva. Non tanto per il cinema, devo dire la verità, non tanto per il cinema, secondo me però per il web. Per il web perché? Potevo essere d'accordo con il discorso di Utopi quando diceva se la gente vede da fuori quello che è il web, gli sembrerà la stessa merda della tv. È vero. Però c'è anche da dire che quando bisogna trovare qualcuno che voglia investire sul web, ragiona soltanto con i soldi. È purtroppo una considerazione che ho fatto in questi giorni. Ragiona in questo modo, nessuno mette un capitale di rischio su una cosa rischiosa. Invece se una cosa ha delle dimostrazioni di poter avere successo, allora sarà disposto a investire. E alla fine, che tu voglia o no, qualunque sia stato il risultato del tuo film a livello qualitativo, e ti assicuro che non dipende da quante persone hanno viste la qualità del film, a discapito di ciò, sicuramente il film ha un merito, quello di aver interessato, secondo me, i produttori al web. E sperando che questo tuo film possa rappresentare un esempio di successo quando si utilizzano i personaggi del web, si mostra la loro forza, sperando che escano prodotti migliori del tuo in futuro. Certo, non vorrei che qualcuno pensasse che la cosa funziona, basta fare una cosa così demenziale, una cosa così poco curata tecnicamente. No, non funziona così. Questa è la novità, e sempre le novità sono le cose più seguite, più viste. Anch'io sono andato al cinema a vedermi il film, la seconda volta, per notare alcune cose. Quindi, al netto di tutto ciò, ti faccio i complimenti per questo, che tu lo volessi o no, e passo alle tre domande. La prima domanda è, tu ami il cinema? La prima domanda è molto semplice, e te la chiedo sai perché? Perché io penso, e perciò vorrei una tua risposta, che chi ama il cinema non possa essere completamente soddisfatto di un prodotto soltanto perché è stato visto. E sa benissimo che non è stato visto per l'opera che ci ha messo, ma è stato visto per i personaggi che ci ha messo. Quindi, se tu ami il cinema, sei soddisfatto di questo risultato? A livello tecnico, nel senso, secondo te il film è girato bene? Non ha pochi elementi tecnici, solo pochi controcampi, pochi carrelli? Non è un po' poco curato? Ecco, questa era la seconda domanda dopo tu ami il cinema. Rispondimi a tutte e due. Una volta fatte queste due domande, arrivo all'ultima. La cosa più importante, secondo me. Diciamo che è una specie di dire apri feed, ma non esattamente così. Perché non utilizzi la tua popolarità e la tua forza mediatica su Facebook che hai raggiunto anche grazie al fatto di collaborare con personaggi di internet? Questo, secondo me, è indubbio. Perché non utilizzi questo? Per aiutare un altro film italiano, che comunque ha avuto buoni risultati, un buon riscontro, che però ha bisogno di un po' di più pubblicità di quella che hai ricevuto tu. Ed è PIF, La magia uccide solo le stade. Saresti disposto a pubblicizzarla sulla tua pagina Facebook? Oppure devi tener conto di qualcuno? Magari c'è qualche problema nello sponsorizzare film? Che magari, non lo so, non so come funzionano queste cose. Questa è solo una domanda, appunto, tu mi risponderai. Chiudo dicendo una cosa, che spero accoglierai, senza... senza... Nel senso, non la prenderai sicuramente bene, però io te la dico con serietà. Non sarebbe stato più giusto, secondo te, affidare la regia a qualcuno che ha studiato per farla, a qualcuno abile, a qualcuno che per te avrebbe potuto migliorare il film. Potevi rimanere soggettista, l'ideatore, quello che ha avuto l'idea. E invece ti sei voluto cimentare in una cosa che, secondo me, non sai fare. Ma, ripeto, alla luce delle tre domande, io saprò se questa mia considerazione è giusta o meno. Non lo so, mi rendo conto che il vlog è un po' debole proprio per questo punto, che tu lo vedrai e solo dopo risponderai e potrai rispondere di conseguenza. Io, però, ci provo. E, davvero, una cosa che mi fa tristezza in Italia è che chi conosce, chi ha le conoscenze, chi entra nei giri giusti, può addirittura permettersi di fare il suo primo film, mettendosi alla regia quando ci sono persone veramente abili d'Italia che questa occasione non ce l'hanno avuta. Per carità, queste persone dovrebbero capire che nel mondo d'oggi, nel mondo del marketing, nel mondo dove la comunicazione è importante, dovrebbero curare anche quell'aspetto. Però, magari, può essere una buona occasione per chi, come te, sa fare tutto questo anche per aiutare gli altri. Chi lo sa, ciao a tutti, dal vostro amico Dario Mello. Ciao a tutti.